Daniele dopo la prima squadra inizia ufficialmente domani la nuova stagione per la formazione primavera un'annata che si prospetta ricca di cambiamenti uno su tutti la nuova guida tecnica che stagione ti aspetti stagione di tante novità tanti cambiamenti a livello di rosa e a livello di staff tecnico come hai detto tu cambieremo il primo allenatore e anche allenatore dei portieri riconfermeremo il secondo allenatore che è raffaello bendinelli che darà una mano anche in prima squadra l'organico sarà nuovo praticamente per metà squadra abbiamo un sacco di ragazze giovani entrano con tanta qualità e tanta voglia di far bene parlare di obiettivi in questa fase embrionale di stagione prematuro ma se ti dovessi chiedere in generale che squadra vorresti vedere la domenica e quali sono le tue aspettative per questo nuovo corso le mie e le nostre aspettative sono molto alte come ti ho detto prima le ragazze sono molto valide e cercheremo di lavorare molto sullo spirito del valpo che ha sempre contraddistinto queste annate penso che lavorando in questo modo ci avremo anche dei frutti per i prossimi anni grazie a tutti grazie a tutti